La scuola di danza di Policastro Bussentino Una competizione internazionale alla quale hanno preso parte le scuole provenienti da tutto il mondo, vincitrici nei precedenti campionati nazionali. Tra le varie discipline, le giovani ballerine hanno gareggiato nella categoria Dance Open Adulti, conquistando la semifinale, dove delle 12 squadre in gara solo due erano le italiane. Al termine della gara, la squadra del Tempio Latino è giunta al settimo posto, aggiudicandosi il titolo di prima squadra italiana, accedendo così di dritto al prossimo campionato del mondo. Un risultato che non può che rendere orgogliosa la maestra Anna Magliano, contenta anche del calore delle persone che l'hanno sostenuta e seguita dall'Italia. Non possiamo che fare complimenti a queste giovani e brave ballerine per l'impegno profuso, per l'aver conquistato questo importante riconoscimento, ed anche per essere riuscite a portare alto il nome dell'Italia e del comune di Santa Marina.